ciao a tutti sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale nel video di oggi voglio realizzare una scatola una scatolina però solo riciclando del materiale che è una cosa che mi piace fare che vorrei fare sempre un po di più anzi ditemi nei commenti se vi piacciono questi questi video di riciclo perché secondo me potrebbero essere un'idea per per fare per evitare di buttare via tantissime cose e provare magari a dargli nuova vita che non fa mai male perché ormai siamo sommersi da scatoloni da da plastica da tutto ciò che che riguarda gli imballi dei vari oggetti non so cosa ne pensate voi ma ci siamo ridotti che per comprare un oggettino piccolo così a volte abbiamo chili e chili di di materiale inutile che va buttato e il che non va bene quindi magari provare a riciclarlo non sarebbe neanche male dunque un'altra cosa che vi voglio dire è che oggi non sono solo io a fare il video ma voi sentirete perché lo so che si sentiranno ecco sono stata zitta un attimo così avete capito meglio e stanno facendo dei lavori nell'alloggio a fianco al mio e ahimè non ho potuto evitare di fare il video ma continuano a fare a battere a fare rumori di tutti i tipi quindi mi scuso però io ho deciso lo stesso di fare il video e quindi questi ci saranno un po di rumori di sottofondo ma immagino che capirete allora cosa uso uso questo è l'anima diciamo degli degli scotch da imballo in ufficio da me ne fanno andare tantissimo e quindi ho deciso di cominciare a fare un pro una prova riciclo se mi piace come viene e vedrò di farmi di farmi di dare man mano che li finiscono e farò scatole per tutti e quindi anima dello scotch e poi ho riciclato anche sempre dall'ufficio della carta da imballo di una stampante no di una cartuccia di una stampante e quindi utilizzerò anche questo per finire di creare la struttura allora come prima cosa vado a fare due cerchi prendendo come riferimento l'esterno del mio del mio della mia anima quindi così dopo di che taglierò magari non proprio questo filo ma leggermente più largo comunque deve essere preciso quindi facciamo due uguali così perché ho in mente di fare una chiusura un po un po diversa adesso spero che venga come cielo in mente ma tanto voi lo sapete chi mi conosce lo sa io faccio e poi vediamo quello che viene fuori se non viene proprio perfetto e oppure non viene come avevo in mente io non importa perché come dico sempre bisogna provare la cosa vale anche per me non solo per voi dico sempre non vi fermate perché magari pensate che le cose non vengono bene no le fate lo stesso la prima volta magari non verrà perfetto la seconda volta neanche la terza volta vedrete che viene meglio quindi quando vi viene in mente un'idea lanciatevi provate e va bene così allora ho fatto due cerchi come l'esterno e adesso vado a fare due cerchi all'interno poi capirete perché due cerchi all'interno della mia struttura ok ora fatto ciò vado a ritagliare il tutto questi sono i quattro pezzi di cartoncino che ho ritagliato allora nello specifico vi faccio vedere erano due pezzi uguali più grandi che sono questi che vedete coincidono perfettamente con la larghezza del mio portarotolo mentre i due più piccoli che ho fatto all'interno praticamente li ho tagliati in modo che guardate un po bene questo importante che entrano perfettamente anche con un po' di gioco all'interno del mio rotolo ci sono due ora dunque come prima cosa vado a incollare i due più piccoli così nel frattempo si incollano e perché voglio che che si crei un po' di spessore quindi vado ad incollare uno sull'altro i due più piccoli così in modo da aver creato vedete questo spessore e vedete che questo passa tranquillamente mi raccomando importante ora mentre io vado a fare il resto questi hanno il tempo di asciugare bene allora cosa devo fare per per fare questo lavoro utilizzo l'ultimo kit più disegnato margherita allora io ho già intanto ritagliato due pezzi così per non perdere tempo che sono semplicemente i due pezzi che mi serviranno da incollare fuori così dal mio supporto sia fuori che dentro in questo modo faccio vedere ok quindi questi sono i due pezzi che ho già ritagliato sono due pezzi alti cinque centimetri come il bordo ma io ho già fatto che che ritagliarli per non perdere tempo quindi adesso cosa vado a fare dalla stessa carta dallo stesso pezzo che avanzato vado a tagliare ancora dunque un pezzo della stessa dimensione del mio cerchio più grande perché devo andare ad incollarlo sopra lo faccio dal rovescio così non rimane il segno della penna quindi facciamo uno uguale così mentre l'altro ho bisogno che sia più grande dopo il capirete perché ho preso di riferimento guardate senza star lì senza ho preso una cosa che più o meno va bene perché vedo che rimangono quel centimetro e mezzo in più che è sufficiente vado ci sta si giusto giusto vado a ritagliarne una parte più grande in questo modo ora tagliamo allora tagliati due pezzi vedete uno mi servirà da incollare perfettamente sul bordo e l'altro mi servirà per fare una chiusura quindi una cosa che devo fare è questa io prendo il mio cerchio di riferimento lo piazzo più o meno al centro non è una cosa che deve essere giusta al millimetro adesso capirete perché mi faccio il mio segno così tutto intorno e adesso con la forbice vado a creare dei tagliettini così vado a togliere questo mi permetterà di fare delle curve le curve per per incollare il tutto su un cerchio ho bisogno di togliere questi pezzettini adesso poi quando lo incollo vedrete perché quindi dovete farlo ad occhio e non è importante che che siano precisi quindi vado a fare tutta la mia circonferenza in questo modo è questa è la situazione in cui ho tagliato la mia carta ora cosa andiamo a fare dunque come prima cosa vado prendo il distress e vado a sporcare la mia carta così tutto intorno ok ora vado a incollare questo pezzettino sul mio supporto rotondo quindi con la stick in questo modo perfetta tanto qua si tratta di carta e vado ad incollare il mio particolare così ok ho ancora una passata di distress così rimane ben definito e siamo posto ok ora cosa faccio vado ad incollare al centro il mio cerchio sulla foglio che ho tagliato quindi altra colla facciamo così e incolliamo al centro ok così adesso praticamente io cosa vado a fare vado a prendere il mio supporto lo posiziono metterò un po di colla lo posiziono sul mio cerchio e vado a ad incollare chiudendo i miei laterali in questo modo vado ad attaccare il biadesivo tutto intorno perché decisamente più tenace quindi faccio un giro un po di colla di biadesivo così ok ok taglio non preparo mai la forbice ora stacchiamo il biadesivo pezzo alla volta non è il caso di farlo tutto insieme e vado ad incollare così facciamo molto più in fretta perché capite che il biadesivo è subito più tenente la finace della colla guardate come si fa in fretta a fare questo lavoro così ok facciamo tutto il giro ci mettiamo veramente un attimo ok e abbiamo incollato il nostro supporto in questo modo qua ora prima di andare ad incollare la parte esterna voglio andare a colorare il bordo perché non farò non farò entrare dentro la carta per non per non renderlo troppo spesso quindi utilizzo i miei penarelli questi i big brush pen perché diventano solo come si dice indelebili quindi sono molto efficaci e quindi vado a colorare tutto il mio bordo così lo faccio del marrone faccio marrone che così richiama il marrone che c'è sulla carta il di stress non ho usato il di stress perché voglio che venga proprio completamente marrone il di stress sarebbe stato troppo chiaro si intravedeva al cartone sotto invece in questo modo il cartone sotto viene completamente cancellato lo faccio praticamente anche un po dall'interno così così se la carta non viene poi incollata al decimo di millimetro non importa perché non si nota ok 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 quindi fatto ciò vado a mettere di nuovo il biadesivo questo punto ne metto sia un pezzo sotto così perché il biadesivo è decisamente più tenace quindi funziona decisamente meglio quindi mettiamo il biadesivo qui poi ripeto se non avete il biadesivo potete tranquillamente utilizzare la colla nessuno lo vieta ma visto che io ho il biadesivo metto il biadesivo e metto anche vediamo un po dovrebbe starci si mettiamo anche il biadesivo qui sulla parte esterna superiore superiore scusate così vado ad incollare perfettamente la carta chiaramente adesso cosa dovrò fare dovrò fare molta molta attenzione quando vado ad incollare la mia carta perché col biadesivo ve lo dico sempre c'è un piccolo problema che non avete margine di errore perché una volta incollata la carta non potete più staccarla invece quando voi mettete della colla è riposizionabile e quindi diventa tutto più semplice ma noi cosa facciamo dobbiamo semplicemente fare proprio attenzione a partire diciamo che in questo caso non è difficile perché noi abbiamo una volta che partiamo bene sul bordo è difficilissimo cioè non la cosa poi va da sé e diventa difficile sbagliare comunque voi togliete il biadesivo un po' alla volta ecco non è vero ho detto una stupidaggine perché ho sbagliato ok vediamo un po' se riusciamo a recuperare appena appena sì e andiamo ad incollare il nostro la nostra carta tutto intorno così ora occupiamoci della parte superiore dunque prendiamo i due pezzi abbiamo i due pezzi che entrano dentro vedete in questo modo ok e invece abbiamo la parte che è uguale al coperchio quindi cosa vado a fare intanto vado a rivestire questo ehm questo particolare utilizzo sempre la stessa carta o anche no la cambierei vediamo un po' prenderei comunque una carta del kit magari senza troppi disegni vediamo un pochino che ne scelgo una non l'ho ancora scelta prendo questa prendo questa quindi devo ritagliare devo fare così ho bisogno di questo è troppo piccolo sì anche qui devo ritagliare una parte più grande perché devo andare a fare lo stesso lavoro che ho fatto prima per sigillare il tutto quindi vado di nuovo a fare un cerchio con il mio scotch così quindi piazzo questo al centro e faccio già subito il secondo cerchio di riferimento e ora come prima vado a tagliare il tutto vado ad incollare di nuovo il particolare al centro così e ora vado a mettere della colla qui sul bordo in questo modo così e anche della colla intorno dal momento che devo andare ad attaccare anche qua vedete che si fa in fretta dovete solo aspettare un secondo che la colla faccia presa così ok ok aggiungiamo l'altra colla e procediamo finiamo tutto il giro così in questo modo in questo modo abbiamo vedete foderato e coperto tutto il contorno del nostro del nostro supporto ora lasciamo asciugare bene e occupiamoci invece del tappo superiore poi anche questo facciamo la stessa cosa vado a ritagliare un altro cerchio rifaccio di nuovo la stessa cosa e procedo ora abbiamo foderato tutti i nostri particolari quindi cosa voglio fare vi faccio vedere subito voglio incollare praticamente il supporto più piccolino sul mio tappo in modo che quando vado a chiudere il tappo rimanga incastrato ma prima di fare ciò devo fare un'altra operazione ho segnato il centro di questo cerchio ora vado a fare un foro col punteruolo in questo modo ok occhio alle dita come dico sempre ve lo dico per esperienza ho fatto un foro e adesso vado ad inserire uno dei miei supporti questi qua che a me piace un sacco e io lo voglio usare in questo caso come maniglia per tirare sul coperchio quindi lo vado ad inserire nel mio foro chiaramente lo faccio prima di andare a incollare la parte sottostante così poi mi andrà a coprire ok è entrato a fatica ma meglio così in questo modo qui ora andiamo ad allargare i supporti di metallo ok quindi questo sarà guardate un po' il mio coperchio ora cosa faccio vado un attimino mettere del biadesivo nella parte posteriore così mi servirà per tenere fermo sia il mio pezzettino di metallo che mi sarà anche utile per incollare poi metto un bel pezzo un po' abbastanza grande così così vado a a chiudere bene quindi questo è un biadesivo molto tenace per cui mettiamo questo così ora stelicolo e con la mia colla vado ad attaccare il supporto al centro in questo modo lo centriamo e lo incolliamo ok così direi che perfetto ora aspetto che faccia un attimino presa vedete e nel frattempo vado a decorare la parte del mio tappo anzi prima faccio ancora una cosa voglio mettere del nastro intorno al bordo dello scatolino e quindi utilizzo il mio nastro che conoscete già di questo pizzo che io sto usando tantissimo perché mi piace un sacco pizzo che ha già l'adesivo posteriore il biadesivo posteriore molto tenace tra l'altro lo trovate nel link nella descrizione del video trovate il link ai prodotti che uso e questo lo trovate perché io lo uso tantissimo mi piace un sacco quindi vado a tagliare la misura già giusta diciamo così e ora lo vado ad incollare quindi tolgo il biadesivo questo è stato veramente una bella scoperta lo sto mettendo un po' dappertutto perché va bene per fare gli abbellimenti per decorare i junk veramente cioè si presta a tantissime a tantissimi lavori poi a questo biadesivo che è bello tenace ok e qui perfetto chiudiamo il tutto vedete che è subito più più carino qui ho pizzicato un po' il bordino lo tiro fuori perché sono andata a incollare un po' male ok perfetto risolto il problema guardate che bellino così rimane più finito e questo è il mio tappo che guardate se io lo infilo non voglio non aspetto ancora un attimo che si asciughi qui e poi ve lo faccio vedere allora nel frattempo dicevo vado a decorare la parte del coperchio allora per fare ciò voglio mettere della garzina qui di lato perché direi che si presta bene e poi sono andata a ritagliare delle margheritine da vi faccio vedere eh dal foglio dove ci sono i quattro i le quattro pagine più piccole che vi avevo detto nella presente attenzione del video ho fatto proprio per avere dei particolari più piccoli da ritagliare e quindi sono andata a ritagliare a lavorare queste quattro margherite che andrò poi ad attaccare su sul mio coperchio allora intanto voglio mettere la garza quindi facciamo così allora forse è un po' troppo lunga ne taglio un pezzo così perché voglio che rimanga sì diciamo che così va bene allora colla per la carta che ho usato vi ho già detto diverse volte che per incollare questa garza va benissimo perché incolla bene e mi permette di di spostare la garza come meglio credo guardate un po' vedete che facilissimo invece le mie i miei fiori vi vado ad incollare con questa colla qui dopo di che devo fare ancora un altro lavoro mettiamo qua tutte quattro vicine così chiaramente la decorazione è sempre molto soggettiva a me l'idea così piaceva ok quindi vedete che le ho messe così però adesso voglio fare ancora una cosa e cioè voglio andare a mettere metto della colla però non questa che troppo spessa metto della colla più sottile la metto così perché con questo perché è una colla un pochino più leggera quella rimane troppo spessa metto della colla all'interno dei miei fiori così aspettate che chiudo perché sennò veramente mi si secca tutto e poi vado a mettere all'interno del mio pistillo questi questi strass non so neanche come defini come si chiamano esattamente sono troppo carini che danno tanta luce ok adesso ne sono caduti poi quando si asciugheranno vado a togliere quelli in più perché ne sono caduti troppi chiaramente guardate un po che bello per completare il tutto voglio ancora mettere del nastro questo marrone perché mi piace come abbinamento di colore rimane una cosa delicata voglio andarlo inserire qui nel mio gancettino per rendere ancora più facile la presa perché altrimenti rimane un pochino scomodo e quindi io gli metto questo e in questo modo ok rimane più semplice quindi aprire il nostro coperchio troppo lungo lo vado a tagliare allora facciamo che chiudiamo bene così forbicina si lascerei proprio facciamo così per appena uno e due ok ora si è un po' asciugato quindi vado tutto a chiudere guardate rimane fisso perché comunque fa da presa però riusciamo a chiuderlo perfettamente il nostro tappo non esce adesso non giro troppo perché si stanno ancora asciugando le paillettes qua però lui è perfettamente chiuso vedete perché ho paura di sforzare perché ancora non si è asciugato bene ma è perfetto quindi guardate un po' si vedete che adesso si stanno allora facciamo una cosa vi faccio vedere dunque prendo uno dei miei fogli vado a togliere il sovra più eccoci facciamo così così lo posso maneggiare meglio vado a togliere il sovra più delle mie dei mie strass che non voglio perdere così li recupero li rimetto nella bottiglietta inutile sprecare le cose ok e adesso posso farvi vedere meglio che ok vedete che fa una ben presa quando chiudo direi che è venuto quello che avevo in mente con il nostro pizzo spero che vi sia piaciuto questo mio questo mio lavoretto dove sono riuscita ad utilizzare il mio nuovo kit margherita spero che vi piaccia come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile mi raccomando cercate di fare tanti progetti come quelli che vi propongo e poi non finirò mai di dirlo inviatemi le foto perché mi fa proprio piacere ricevere le foto e se a voi fa piacere le pubblicherò sui miei social spero che anche questa idea vi sia piaciuta un po' così diversa dal solito e mi raccomando scrivetemi nei commenti se vi va che faccia qualche video in più sul riciclo detto questo come al solito non vi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro un bacione e ciao 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 ciao